Ci troviamo nella cucina delle fattorie Castelluccio a Bocchigliero e prepariamo la minestra maritata, un piatto tipico di Bocchigliero. Ingredienti patate della sila IGP varietà ditta, cicoria selvatica, pane raffermo casereccio grattugiato, cipolla, origano, fagioli varietà zoira, peperoni sotto aceto, pomodori verdi sotto aceto, guanciale di maiale nero di Calabria tagliato a fiammifero, pepe, sale e olio di frantoio. Mettiamo a mollo la fagiola per 12 ore circa. Quando mettiamo a cuocere i fagioli è solito delle nostre parti aggiungere, oltre che a una cipolla rossa tagliata in due, anche qualche rametto di origano che viene raccolto proprio dalle nostre parti e che ha un odore molto forte e caratteristico. Passate le 12 ore, mettiamo la fagiola a cuocere per il tempo di cottura necessario fino ad ottenere il prodotto cotto. Il tempo di cottura per i fagioli è di circa due ore a fuoco lento. Prepariamo la minestra. Pegliamo e laviamo le patate, dopodiché le tagliamo a pezzetti grossolani. Aggiungiamo una pentola calpiente, aggiungiamo l'olio. I pezzetti di suino nero e mettiamo a riscaldare con un po' di cipolla. Facciamo rosolare per benino, fino a che il grasso del guanciale si è ben sciolto. Aggiungo le patate che abbiamo già tagliato a pezzettoni e continuiamo a far rosolare. Disponiamo sopra le patate la cicoria che abbiamo già lessato. La variante di questa minestra si può ottenere anche sostituendo la cicoria con il cavolo verza, quello scuro per intende. Abbiamo aggiunto i fagioli, mettiamo 2-3 cucchiaini di peperoncino macinato bocchiglierese, sale e acqua. Importante in queste ricette è la sovrapposizione degli ingredienti che durante il tempo di cottura devono restare nella stessa posizione. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. La minestra è giunta a cottura, spegniamo il fuoco e aggiungiamo una bella mangiata del pane raffermo che abbiamo già preparato. Aggiungiamo la quantità necessaria per assorbire il liquido in eccesso. Chiudiamo col coperchio e lasciamo riposare per qualche minuto. La minestra maritata bocchiglierese è quasi pronta. Bisogna solo amalgamare per benino tutti gli ingredienti. Con un cucchiaio di legno schiacciamo le patate e tutti gli ingredienti all'interno della pentola in modo da ottenere una sorta di purè. Eccoci qua. Andiamo a impiattare la nostra minestra. Allora a questo punto disponiamo sulla nostra minestra i peperoni sotto aceto. Questi sono un pochino piccanti per cui andiamo un po', mettiamo un paio di pomodori sempre sotto aceto ed è pronto per essere servito. Grazie. 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 Grazie.